Allora, obiettivo della giornata duplice innanzitutto vediamo assieme la soluzione del laboratorio 4 che avevamo lasciato indietro, altrimenti ce la portiamo troppo avanti così ripassiamo assieme HTML e CSS e poi riprendiamo l'argomento JavaScript e andiamo a vedere la soluzione al piccolo compito che avevo lasciato la volta scorsa e procediamo con le altre caratteristiche di JavaScript Per quanto riguarda il laboratorio 4 avevamo due esercizi il primo era quello di andare a utilizzare un file HTML con un CV e andare a definire un CSS che permettesse di rappresentare alcune caratteristiche visuali in particolare allargo un po' il testo definire una palette di colori per lo sfondo il testo normale e i titoli H1, H2, ecc. Un suggerimento era quello di andare a vedere Palette On come punto di partenza per andare a vedere delle serie di colori in generale le linee guida sono quelle che vi avevo enunciato parlando di rappresentazione visuale immaginando di avere uno sfondo bianco è importante andare a definire colori che siano nettamente distinguibili dal bianco quindi colori troppo chiari rischiano di non essere visibili i colori saturi quindi molto vivaci con una saturazione elevata devono essere utilizzati in maniera non troppo estesa perché innanzitutto stancano la vista e poi dovrebbero essere utilizzati per andare a tirare l'attenzione sugli elementi particolarmente rilevanti e quindi ad esempio i titoli ha senso mettere gli saturi ma ovviamente i titoli compaiono qui e là non troppo come facciamo a definire i colori per lo sfondo il testo eccetera apriamo il file cv ci interessa poco è questo abbiamo titoli livello 1 che è il titolo principale abbiamo titoli di livello 2 che sono le varie sezioni come li definisco? li definisco con un css dove metto le caratteristiche? allora in body posso andare a definire il font eventualmente il colore qui io non ho messo nulla sul colore a livello body il che vuol dire che viene utilizzato il colore standard che è il nero se volessi mettere un altro colore lo vado a indicare in quel punto quindi se volessi andare a cambiare il colore ad esempio l'html vi apro la pagina così vediamo come compare allora questo è il testo vedete che il colore è nero provo a ingrandire un po' vedete che è tutto nero se volessi cambiarlo devo andare nel file css e andare a modificare qua il colore quello che sto usando qua è webstorm che è l'ambiente che poi utilizzeremo più avanti appena a live sarà disponibile mi hanno detto oggi che lo stanno installando quindi spero per l'otto maggio che ci sia vi ho detto che potete installarlo anche sui vostri pc perché esiste licenza gratuita per tutti gli studenti quindi questo è l'ambiente che poi utilizzeremo e utilizzerete poi anche in sede d'esame la scelta è ovviamente su colori scuri quindi questi sono da escludere il nero è quello standard che è quello che ha una maggior differenza rispetto allo sfondo brown potrebbe andare il blu è molto saturo e non è abbastanza scuro quindi conviene piuttosto andare a scegliere un dark blue dark red potrebbe andare vedete che sono tutti abbastanza chiari ecco indigo indaco potrebbe essere una scelta ragionevole perché è abbastanza scuro quindi si distanzia abbastanza dallo sfondo dallo sfondo questi sono tutti colori chiari il marrone il midnight blue ad esempio è abbastanza scuro quindi se io salvo questo e torno qua e ricarico vedete che è cambiato il colore di sfondo io applico questo al tag body e quindi automaticamente quello si applica al tag body a tutti i tag che sono contenuti quindi se voglio dare una definizione generale agli elementi di tutta la pagina li definisco lì per quanto riguarda i titoli di livello 1, 2 e 3 il colore che ho scelto qua è un arancione vedete che qua l'ho espresso come componenti rosse verde e blu poi Webster mi fa vedere sul fianco il colore che risulta altre caratteristiche che posso andare a definire a livello generale il tipo di fonte utilizzato avevamo detto che le principali famiglie di fonte in termini di forma sono serif o sans serif i fonti tipo sans serif non hanno quelle che si chiamano le grazie quindi qui le decorazioni che ci sono di solito alla fine dei tratti per cui possiamo scegliere un font serif o sans serif e vogliamo semplicemente dire come ho fatto qua in ultima posizione dire che in questo caso io voglio un font sans serif ovviamente la scelta è lasciata al browser o meglio a chi ha programmato il browser che andrà a scegliere un font sans serif tra quelli disponibili sul sistema se io voglio essere più specifico posso andare a specificare dei nomi di font verdana ad esempio è un font molto diffuso sui sistemi microsoft elvetica noi è un po' meno diffuso ma comunque si trova abbastanza io posso mettere i nomi come vedete qua come verdana oppure se il nome del font contiene degli spazi lo posso includere tra doppi apici ho messo tre nomi di font cosa vuol dire vuol dire che il browser va in ordine e cerca uno dopo l'altro innanzitutto cerca di capire se sul sistema in cui viene visualizzata la pagina esiste un font che si chiama elvetica noi se c'è utilizza quello altrimenti cerca uno che si chiama verdana se c'è utilizza quello altrimenti va avanti quindi io posso mettere una serie di font in ordine di preferenza quindi quello che preferisco per primo e gli altri sono opzioni successive in quello che si chiama fallback l'ultimo solitamente dovrebbe essere un nome standard quindi serif o sanserif in modo che il sistema comunque possa scegliere un font di un tipo o dell'altro che sicuramente è disponibile su qualunque sistema operativo vedete che in questo caso sono fonti tipo sanserif quindi non ci sono le grazie quindi gli elementi decorativi in fondo a ogni tratto altra caratteristica che qua ho inserito è l'altezza delle righe line A ovvero quanto vengono distaccate le righe di testo una dall'altra 130% vuol dire che la distanza tra le righe corrisponde al 130% dell'altezza naturale del fonte se io metto 100% vuol dire che le righe saranno vicine e i caratteri non potranno sovrapporsi l'altezza del fonte è 100% la distanza è 100% quindi sicuramente non ci sarà la sovrapposizione tra le lettere di una riga e di quella successiva se io metto dei valori inferiori al 100% è possibile che caratteri che hanno un'elevazione sopra la base molto alta e caratteri che hanno un abbassamento che stiano in righe una vicina all'altra possano sovrapporsi 130% vuol dire che ho un 30% in più di margine tra le righe che come vediamo qua permette di vedere le righe abbastanza distaccate se invece di mettere 130% io mettessi che so 70% e vado e vado a ricaricare la pagina vedete che ho una sovrapposizione ad esempio la G tocca la O se metto un 100% vedete che siamo abbastanza giusti quindi le lettere che vanno verso il basso ad esempio questa P è distanziata rispetto al limite superiore delle P o della L non c'è sovrapposizione ma è molto giusta vedete che le linee sono molto attaccate in generale la raccomandazione è quello di avere un'interlinea che sia un po' più di 1 questo perché avendo le linee un po' più distaccate sono più facili da leggere tanto più ho dei blocchi di testo lunghi tanto più questa leggera differenza distanza tra le linee mi aiuta a leggere quindi 20-30% oltre il 100% fanno bene quindi ad esempio 120% o 130% come rappresentate un po' più distanti danno un po' più di spazio quindi permettono di leggerle con più facilità margin top vuol dire che semplicemente non c'è margine sopra la pagina quindi la prima riga di testo primo elemento sostanzialmente è attaccato al margine superiore della finestra tipo di carattere ne abbiamo parlato abbiamo visto serif allineamento o indente e l'interlinea l'abbiamo visto abbiamo visto l'interlinea in particolare i link allora a 2 punti link si riferisce a tutti gli elementi tipo A che contengono un riferimento quindi un attributo HRF io posso avere attributi tipo A che non contengono un attributo HRF e quindi quelli non saranno evidenziati con quel colore brown i link visitati avranno un colore che è arancio e i link su cui io transito avranno quelle caratteristiche allora solitamente quello che viene variato per un link su cui io transito con il cursore è il colore ma ovviamente CSS mi permette di andare a modificare qualunque altra caratteristica qui come vedete ho cambiato sia il colore quindi diventa viola sia il colore di sfondo che è un colore molto chiaro orientato si vede un poco ma in realtà è una specie di giallino molto chiaro per cui ad esempio quando vado qui sopra vedete che cambia il colore sia del testo che dello sfondo io potrei anche cambiare la dimensione del font fare qualunque altra operazione potrei ad esempio separare il testo che precede e il testo che segue con uno spazio più grande il problema a fare queste modifiche è che se io aumento ad esempio la dimensione del font quando transito sopra con il cursore automaticamente tutto il testo che sta attorno ne risente e quindi viene spostato quindi io passo sopra un link e tutto il resto del testo viene riarrangiato perché magari alcune parole vanno a capo o vengono spostate quindi questi effetti dovrebbero essere limitati perché l'attenzione dovrebbe essere sul link su cui sto transitando e non sul resto lo stile delle liste numerate e non numerate quindi qui ho un bullet particolare con questo disegno oppure ho un bullet normale qui vedete che vado a definire i list item dentro le liste non numerate vado a definire un attributo che è outside quindi sta fuori dall'elemento del list item e vado a prendere il valore in questa immagine che è quella che abbiamo visto anche lì ho anche un margine sinistro che come possiamo vedere qui ad esempio mi permette di non sovrapporre il testo al bullet ovviamente più è grande il bullet più devo aggiungere un margine perché la dimensione cioè lo discostamento del list item dal bordo è standard quindi quindi se ho un elemento molto grande questo occupa più spazio di quello che viene lasciato automaticamente libero scusate stili per le tabelle la spaziatura delle righe della tabella può essere fatto utilizzando un'ampia spaziatura verticale tra le righe stesse oppure utilizzando delle linee orizzontali tenui e non predominanti oppure utilizzando degli sfondi alternati questa è una tabella che utilizza dei colori alternati come definiamo questa e poi andiamo a vedere le altre allora vedete che qui faccio table punto bounded rows quindi vado a prendere i termini tipo table che hanno come classe bounded rows che è la classe di quella particolare tabella vado a prendere il table row che si trova dentro questa tabella e in particolare applico lo sfondo al ennesimo figlio e in particolare i figli con posizione pari e vado a mettere per questi un colore che è questo giallo chiaro quindi tutte le righe di colore di posizione pari avranno quel colore di sfondo i da Tutti i table data hanno queste caratteristiche qualunque sia il tipo di tabella, quindi hanno un margine di zero, hanno un vertical alignment middle e hanno un padding sinistro e destro. Vedete che questo testo è centrato in verticale, ha un padding, quindi vedete che questo spazio che sta qui sulla sinistra della A, dell'1 e della D è il padding interno e c'è un padding anche esterno che è questo spazio che segue qui, scusate, destro e sinistro. TH sono i table header, quindi questi qua. Vedete che qui c'è scritto TH first child padding left uguale a zero. Vuol dire che il padding sinistro, quindi a sinistra della cella, è a zero. Vedete la differenza tra il padding a zero di questa table header e il padding a un carattere, una M, per questo table data. Qui c'è un'altra caratteristica che può essere utilizzata. Se metto una classe reverse sulla tabella, allora tutti i table header che si trovano in quella tabella avranno un background color che è questo viola, un colore che è questo giallo e un border bottom che è questo arancio. Ed è il caso, scusate, non è questo caso, ma se volete possiamo andare a modificare il codice e vedere come cambia. Quindi, se io vado a prendere il CV e vado a prendere la tabella di esempio, chiamo reverse, salvo e carico la pagina, non fa nulla perché non si chiama reverse. L'altra classe interferiva con questa perché mi dava la banda, quindi reverse mi dà l'inversione delle due. Questo ci fa anche vedere come noi possiamo mettere più classi per lo stesso elemento. Basta mettere le parole chiave separate da spazi. Quindi, banded row si applica alle righe normali, invece reverse si applica esclusivamente alla prima riga, quella con gli header. definire uno stile per le sezioni. Le sezioni dovrebbero essere separate l'una dall'altra, ad esempio con delle linee orizzontali, racchiusi in bordi oppure con sfondi distinti. Allora, una sezione ha un bordo puntinato di colore viola. E in effetti vediamo che queste sezioni, queste sono tutte sezioni, hanno un bordo puntinato di colore viola. Hanno un border radius di 10 punti. 10 punti che cos'è? È il raggio di questo angolo, come curvato. Quindi più è ampio questo raggio, più gli angoli di questo rettangolo saranno arrotondati. Padding. 0, 5, 5, vuol dire che 0 in alto, 5, 5 ai lati. E abbiamo poi un margine di 5 punti tutto attorno e di 160 punti a sinistra. Ricordatevi che l'ordine con cui vengono dati questi elementi è alto, destra, basso e sinistra. In ordine orario. Abbiamo poi i titoli H2 che hanno una posizione che è assoluta. Allora, vi prendo l'HTML così vediamo come è fatto l'HTML e quindi come viene poi visualizzato. Vedete che noi abbiamo una sezione dentro un titolo e gli elementi. Abbiamo visto che le sezioni hanno uno spazio a sinistra di 160 punti. Avendo una posizione assoluta, gli H2 non seguono le sezioni. Essendo l'H2 dentro la sezione, nell'HTML, se non ci fosse questo attributo di posizione assoluta, l'H2 ragionevolmente dovrebbe stare dentro la sezione. È il primo elemento, quindi sta nell'angolo in alto a sinistra. Io qui vado a dire che la posizione è assoluta e definisco soltanto la posizione sinistra. Quindi dico left uguale a 0 vuol dire che l'H2 sarà posizionato sostanzialmente sul margine sinistro della nostra finestra. E in effetti vedete che l'H2 è posizionato in posizione 0. Quindi subito sul margine sinistro. Per quanto riguarda la posizione verticale, non avendo detto nulla, sostanzialmente viene definita dall'elemento in cui si trova, che è la mia sezione. Quindi la sezione, che è tutto il rettangolo arrotondato, è spostata di 160 punti, abbiamo visto che c'è un margine sinistro di 160 punti. L'H2 ha come posizione assoluta orizzontale 0, quindi contro il margine sinistro, e ha una larghezza di 160 punti. Width, 160 punti. Per cui l'H2 e la sezione vengono messi uno di fianco all'altro, e l'H2 viene messo di fianco alla sezione in cui si trova. Abbiamo un altro dettaglio, che è questo border bottom, è sottile ed è punteggiato. E in effetti, se vedete, qui sotto abbiamo questa riga punteggiata più sottile di questa della sezione. La sezione aveva come spessore del bordo un punto, questa qua è 0,5 punti. Abbiamo un margine superiore di 0 e un margine sinistro di 5 punti. Quindi superiore di 0, quindi sostanzialmente allineato con questo, e 5 punti è lo spazio che vediamo qua, a sinistra. Quindi in questo modo, pur essendo l'H2 nell'HTML dentro alla sezione, viene visualizzato alla sua sinistra. Se io non avessi messo questa posizione assoluta, quindi ad esempio commentassi questo, quello che ottengo qui è che questo H2 finisce dentro. La dimensione orizzontale deve essere di 160 punti perché deve stare in questo spazio qua, che è stato lasciato libero. Se io, invece di mettere, torno alla situazione precedente, quindi lo metto con posizione assoluta alla sinistra, avessi messo qua, che so, 360 punti, il risultato è che questo si sovrappone all'altro. Gli elementi di composizione assoluta non vengono considerati quando io vado a disporre tutti gli altri elementi. Ok. Altre caratteristiche. Lo stile delle immagini. Allora, l'immagine qui di Buzz Lightyear, come vedete, è quassù e è a fianco del nome. Il nome è a capo perché semplicemente il font è troppo grande. Ecco, vedete, se ristringo un po' il font, resta qua. E il testo sta qui alla sua sinistra. Questo perché vuol dire che l'immagine ha come caratteristica Float Right. Quindi, è un'immagine flottante ed è allineata a destra e il testo gli sta attorno. Non ho detto nulla, ma io potrei impedire che il testo gli stia di fianco, quindi mettere un Clear Left impedendo che il testo stia a sinistra della mia immagine. in questo caso non mi interessava lo metto tutto a destra all'interno dell'elemento in cui si trova che è un'altra sezione e vado a vincolare anche quella che è la sua larghezza massima 100 Allora, nella fattispecie qui mettere Width o Max Width era lo stesso perché l'immagine è più grande di 100 punti. La differenza c'è se l'immagine originale è più piccola di 100 punti. Allora, a quel punto se io metto Width uguale a 100 l'immagine viene dilatata. Se io metto Max Width a 100 allora se l'immagine è più grande viene ridimensionata a 100 punti. Se è più piccola ha la sua dimensione originale quindi senza doverla scalare in maniera innaturale. In menù di navigazione abbiamo il nostro nav. I link sono questi e l'aspetto dovrebbe essere questo che vedete qua. Quindi con l'evidenziazione eccetera eccetera. Vedete che io ho messo i tag minimali necessari per andare a dire che voglio che quel blocco lì sia visualizzato come bar di navigazione e che quel blocco contenga dei link. Come vengono disposti quei link è demandato in tutto e per tutto al CSS. Se non avessi un CSS qui avrei i link messi uno dopo l'altro. in maniera normale. Invece ce li ho come blocchetti che vengono disposti uno dopo l'altro con uno sfondo con un separatore eccetera. Come viene fatto questo allora il menu di navigazione è questo. Allora abbiamo un background color che è questo viola chiaro abbiamo una spazzatura tra le parole che è un po' più ristretta e abbiamo un allineamento del testo che è centrato questo a livello di barra generale cioè tutta questa i link di tipo A che si trovano dentro la barra vengono formatati in questo modo c'è un bordo sinistro che è puntinato e ha scusate un bordo destro che è puntinato ed ha come spessore un pixel e ha come colore questo giallino il display è definito come inline block cosa vuol dire? Allora quando io ho come tipologia di display block quello è un blocco quindi quando inserisco un blocco il testo precedente viene interrotto con una capo normalmente c'è il blocco e quando finisce il blocco ho un'altra interruzione verticale come avessi una capo il blocco però è tutto assieme tutto il contenuto del blocco è dentro un rettangolo se ho come caratteristica quella di display ogni elemento viene messo uno dopo l'altro il contenuto può andare tranquillamente a capo senza problemi se metto inline block il motore di visualizzazione cosa fa? considera quegli elementi come dei blocchetti ma non forza la capo prima o dopo il blocco quindi è come mettere i mattoncini uno dopo l'altro in fila però sono tutti quadrati e non possono essere messi a capo quindi tutto il contenuto che c'è nel blocco di tipo A resta unito se io mettessi inline quello potrebbe andare tranquillamente a capo adesso qui l'unico caso è questo dati personali se io non mettessi inline block questo dati personali potrei trovarmi se avessi poco spazio dati e a capo personali ok? mettendo invece inline block quel dati personale viene considerato un tutt'uno dentro un blocco abbiamo una spaziatura che è di 0,25 quindi è più larga attenzione questa spaziatura qua riguarda le parole che stanno dentro il blocco l'elemento A questa qui invece riguarda la spaziatura tra i vari blocchi A che vengono considerati come parole quindi questo 0,25 mi permette di avere i blocchi uno attaccato all'altro se non metto questo vedete che questi si distanziano molto e c'è questo spazio vedete che c'è quel violetto sotto che viene messo tra un blocco e l'altro che si vede appena da qui evidenzio fino a quel elemento e quello 0,25 è la spaziatura che ci sarebbe tra una parola e l'altra mettendo la spaziatura negativa questo spazio tra l'uno e l'altro viene sostanzialmente eliminato mentre invece ovviamente all'interno dei blocchi di tipo A voglio che le parole siano spaziate perché se io non mettessi questo i blocchi di tipo A erediterebbero la stessa spaziatura tra le parole e quindi mi ritroverei dati personali tutto attaccato invece io voglio la spaziatura corretta e poi ho un padding di tre punti sopra un carattere a destra tre punti sotto e un carattere a sinistra ultimo dettaglio il border right dell'ultimo elemento di tipo A non c'è in questo modo vedete che io ho queste linee di separazione tra uno e l'altro a destra di questo a destra di questo a destra di questo e non a destra dell'ultimo in modo che quella linea di separazione puntinata compaia soltanto tra gli elementi e non in fondo è un dettaglio ma a volte può essere utile quindi voglio a destra di tutti una riga tranne che per l'ultima e poi abbiamo l'over in questo caso cambio il colore di sfondo diventa un viola e il colore diventa un orange e qui quando vado sopra vedete che cambia lo sfondo e il colore faccio vedere cosa succede a cambiare altre caratteristiche ad esempio padding left due punti 3m padding right 3m vedete che cosa succede se io allargo aumento lo spazio di padding a destra e a sinistra e tutto il resto ovviamente salta fuori perché non c'è più spazio per questo ad esempio per gli interessi che quindi va a capo quindi se passo da uno all'altro tanto quanto ma quando tolgo ovviamente il tutto viene scombussolato questo effetto può anche essere divertente ma in realtà per chi osserva il microfono è andato per chi osserva ovviamente può essere un problema torno di qua e rimetto come era prima footer e header gli ultimi aspetti che vogliamo andare a definire il footer lo vediamo qui vedete che è in fondo alla pagina ed è fisso quindi io scorro il resto e questo resta lì immobile posso ovviamente scorrere e questo è l'ultimo elemento come faccio a realizzare un footer di questo tipo lo vediamo qui allora sostanzialmente abbiamo una posizione fixed quindi è assolutamente indipendente da tutto il resto del del testo e bottom quindi la distanza dal da quanto dal margine inferiore della della finestra è zero quali sono i due elementi fondamentali ha un'altezza di 60 pixel e per il resto non ha molte caratteristiche ha una larghezza di 100% quindi è larga come tutta la finestra per cui se io ridimensiono la finestra quello mi occupa tutta la larghezza ha un padding interno ha un certo background color ha un'altezza 1,1 quindi 110% ha un font size scusate ha un font size del 70% quindi quando io specifico la dimensione di un font con una percentuale quello si riferisce alla dimensione del font normale della pagina quindi quello del 70% rispetto a quanto sta sopra quindi sostanzialmente questo testo normale ha un bordo superiore e inferiore e viene visualizzato come un blocco in modo che il testo non possa dargli fastidio in realtà avendo una dimensione del 100% questo è poco rilevante il fatto che non resti niente nascosto sotto quello avete visto prima come l'H2 e la section l'H2 è una posizione absolute e la section fossero sovrapposti il fatto che questa ultima sezione alta interessi non resti sotto è legata a questa linea qua body vedete che io ho rimesso lo stesso tipo di tag una seconda volta io posso mettere tante regole quante voglio per lo stesso tipo di tag vengono messe assieme l'ho messo qua perché così si legge meglio vicino all'altro footer questo padding quindi spaziatura interna al body di 60 pixel è uguale a questa altezza del mio footer per cui sostanzialmente sotto questi altri interessi dentro il body io ho 60 pixel che sono esattamente uguali all'altezza di questo footer per cui riesco a vedere tutto se io non mettessi questo o mettessi che so 10 il risultato è che ovviamente posso provare a spingerlo su ma normalmente sta sotto perché sotto vari ho 10 pixel quindi un sesto dell'altezza di questo footer e questo ovviamente mi copre il resto se io invece forzo un padding in fondo quello spazio resterà bianco e resterà comunque sempre sotto il mio footer se io se io voglio più spazio posso anche mettere 70 in questo caso vedete che qua ho un po' più di spazio sotto il vari ho 10 pixel da qui al fondo della pagina e quello è il padding del mio body il footer è alto 60 e quindi ho un margine di 10 il footer è all'interno del body ma avendo una posizione fixed viene messo in una certa posizione e non viene conteggiato all'interno del body per cui è come se fosse un qualcosa assolutamente separato la sua spaziatura non viene considerata dentro e quindi resta assolutamente slegato dal resto tra l'altro mettendo una posizione fixed con bottom uguale a 0 io potrei teoricamente mettere il mio footer anche all'inizio della pagina questo comunque viene messo in fondo all'interno della pagina html allora secondo esercizio così vediamo velocemente anche l'altro questo era la tabella html con la classifica e l'obiettivo era quello di andare a evidenziare i titoli della tabella separare le linee con uno sfondo alternato visualizzare la prima cella delle prime due righe titoli esclusi di colore blu le squadre di champions league poi la terza in verde i preliminari di champions league la riga 4 e 5 titoli esclusi di colore giallo europe league e le ultime due le ultime tre righe di colore rosso quindi quelle retrocessi serie b vado ad aprire la pagina html che è questa avete che è tutto molto compatto però ho la mia tabella con la sequenza di titoli e poi ho le varie righe con tutti i dati quindi l'html non contiene nessuna informazione di visualizzazione o di presentazione è tutto dentro il css come è fatto il css il css è linkato qua vedete con un link rel uguale style sheet e href la mia classifica vi apro anche questo questo lo chiudiamo e vi riporto questo ok vedete che questo è già formattato quindi vediamo com'è fatta il css è questo la tabella ha una classe che è sdA che applica la formatazione allora innanzitutto che cosa voglio fare voglio andare a mettere le righe alternate con un colore di sfondo che è questo grigio per cui faccio table serie A spazio table row figlio ennesimo 2n più 1 questo vuol dire che tutti le righe dispari quindi avrei potuto usare odd invece di questa espressione metto come background quel colore che è formato come RGB 230 230 230 230 quindi è un colore grigio chiaro e in effetti vedete che le righe sono di colore alternato table punto serie A spazio TR first child vuol dire il primo figlio di tipo TR che si trova dentro la tabella che ha come classe serie A avrà un border bottom di un punto solid quindi linea continua nero e avrà come background color snow che è un bianco sporco qua non si vede lo vediamo qua in realtà non lo distinguiamo dallo sfondo se avete un buon monitor probabilmente riuscite a distinguere la differenza qui no per cui questa che sarebbe una riga dispari ha in realtà uno sfondo bianco e ha questo bordo qua spesso un punto nero ogni cella sostanzialmente ha un padding di tre punti in modo che ci sia un po' di spazio attorno e ha un allineamento del testo a destra quindi vedete che tutti i numeri sono allineati a destra uno degli errori tipici che si fanno quando si formatano le tabelle soprattutto quando ci sono delle colonne con dei numeri è di allineare dei numeri in maniera centrata se vi va di fortuna tutti i numeri hanno il stesso numero di cifre e quindi risultano allineati effettivamente se ci sono dei numeri che hanno più o meno cifre sono molto difficili da confrontare per cui in generale la regola è quando avete dei numeri li allineate sempre a destra se sono dei numeri con il punto decimale in teoria dovreste allinearli al punto in modo che il punto decimale sia allineato però di solito quello che fate è di mettere lo stesso numero di cifre decimali per tutti e quindi allineato a destra sostanzialmente è equivalente attenzione che ci sono dei font maledetti che hanno i numeri che sono più o meno larghi l'uno ad esempio più stretto dello zero per cui se allineate a destra e avete virgola avete 00 oppure 11 lo 00 è molto più largo dell'11 in generale la raccomandazione è se avete dei font così mal disegnati non utilizzateli per andare a mettere dei numeri quindi tutti allineati a destra perché sostanzialmente sono tutti numeri tranne la prima riga quindi il primo child di tipo TD quindi il primo TD dentro che ovviamente si trova dentro la table rho è la prima cella e questa è allineata a sinistra per cui i nomi delle squadre sono allineati a sinistra e poi arriva la parte di evidenziazione delle celle per le varie posizioni in classifica la riga 2 e la riga 3 la prima contiene i titoli e quindi non la contiamo la riga 2 e la riga 3 hanno quella formattazione abbiamo un background color che è questo bluet abbiamo un border left che è questo blu scuro abbiamo un font weight bold font weight è quanto è pesante il testo i due valori normali sono normal e bold ma abbiamo anche bolder oppure un numero tra 100 e 700 normal e bold riuscite a distinguere per qualunque tipo di font quasi valori più specifici li riuscite a distinguerli soltanto per dei font moderni in cui effettivamente la descrizione è molto particolareggiata abbiamo poi un color white perché sullo sfondo vedete qua il bianco risalta meglio del nero e sostanzialmente è invertito per gli altri ad esempio i preliminari di Champions League abbiamo come caratteristiche questo colore di sfondo che è un verdino il bordo sinistro e poi abbiamo il nuovo font wakeboard stesso per l'altra league cambiando i colori per le righe 5 e 6 e poi la retrocessione in questo caso vedete che andiamo a prendere punto serie A quindi ci troviamo dentro qualcosa che ha come classe serie A al cui interno c'è un table raw che è l'ultimo figlio and last child quindi l'ennesimo figlio a partire dal fondo il primo la partire dal fondo è l'ultimo vado a prendere il primo TD che si trova all'interno e per questo vado a mettere un background color che è questo rosso chiaro e un border left e questo rosso più scuro e lo faccio per l'ultimo il penultimo e il terz'ultimo anzi la prima cella della terz'ultima riga che si trova dentro qualcosa che è come classe serie A domande dubbi l'intestazione e com'è l'allineato quella della tabella l'intestazione in questa tabella non le ho allineate cioè ho allineato semplicemente i TD i TD sono allineati a destra e il primo è allineato a sinistra e quindi questi sono allineati tutti la prima non so come mai non allineate dovrebbe essere allineato a sinistra no perché questi sono TH scusate sono i TH i TH normalmente se non dico nulla sono allineati al centro non sono dei TD questi questi potrei ad esempio fare lo stesso tipo di allineamento quindi allinearli a destra a tutti tranne la prima cioè fare un qualcosa di questo tipo lo faccio anche per i TH quindi TH e TH qui in realtà è doppio forse era ah no qua TH scusate sono allineati a destra sono tutte allineate a destra cioè TH mi era sfuggita la virgola virgola vuol dire questo selettore e questo selettore se voglio allineare a sinistra la prima il primo TH devo farlo in questo modo sì quindi tutti tutti i TH e tutti i TD sono allineati a destra il primo TD e il primo TH sono allineati a sinistra quindi se salvo e ricarico mi si sposta questo ok a questo punto finito questo possiamo fare una breve pausa e poi torniamo a parlare di Javascript finendo poi la nostra panoramica posso chiedere una cosa? sì non tenendo conto di tutte non tenendo conto di tutte le richieste c'è qualcosa che c'è qualcosa che proprio hai sbagliato o che andrò è migliorato no mi sembra che almeno sia corretto nel senso che comunque i colori si leggono i titoli sono diversi qui non so che font hai usato quale? un sans serif e hai usato un serif per i titoli sì va bene perché così li distinguo ancora di più direi in generale sì mi sembra aggiungibile io poi per il link facevo questo espediente qua piuttosto che che dove facevi in gold sì si riconosce che io pensavo che si riconoscesse abbastanza che sia un link e ci arrivi sopra poi quando ovviamente clicco sì ma comunque c'è il corsore che cambia ah quando tu vai sopra cambia il corsore sì sì no ok comunque ci può stare sì ci può stare ok poi messo messo lì è ovvio che sono dei link sì sì va bene io ho scrivato webstorm no? sì mi chiede la licenza quando devi fare una richiesta se faccio l'ogra di 30 giorni no devi fare una richiesta sul sito di webstorm ah sul sito? vai sul sito di webstorm fai una richiesta di licenza come studente in base alla tua email vede che sei del Politecnico quindi sei di uno studente e a quel punto ti manda poi la licenza ah ok non c'è tanto posto grazie nel frattempo puoi usare 30 giorni però la mail arriva subito sì ma come si apre un progetto su webstorm che io l'abbiamo scaricato e non siamo usciti da prima c'è uno da nuovo ah fate un nuovo progetto e andate a metterlo in una cartella che scegliete voi io adesso sono in questo progetto e quello che posso fare per fare file new project e qui c'è lì a questo punto quello che puoi fare è fare un tu project oppure un HTML5 e questo non ce l'ho capire come è io ho fatto HTML5 poi ho fatto create e non... e mi uscirà la schema là dopo non sapevo come ne ho procedo perché questo ti dice dove te lo mette io mi fa la crea la cartella da... esattamente quindi devi andare a dire dove vuoi mettere il... ok il tuo progetto ah poi io vado poi crea la cartella in realtà il boilerplate è abbastanza... spesso io ho visto che era HTML5 quindi non so però poi... si in realtà puoi fare... detto vuoto in realtà puoi fare... un entry project e... metti un file HTML e poi dall'arma cioè faccio tipo un file un blocco, un note e poi salvo l'estensione HTML no, lo fai qua dentro allora se tu... una volta che hai il progetto così immagina di avere... lo facciamo adesso? si vabbè mettiamolo qua chiamiamolo... esempio è vuoto quello che puoi fare è fare un click destro qua New HTML ok questo qua mi manca questo passaggio poi faccio HTML scritto Java e... e lo chiami... non so... esempio ok ok e lui automaticamente crea il file con... segnamenti fondamentali passaggio... tasto destro tasto destro e... file HTML ma... la nostra cosa a noi ce l'ho detto dei ragazzi dello scorso che voi fate un esodero lo ripeterà anche quest'anno? no perchè siete troppi che non... l'anno scorso c'era il laboratorio e... ci stavano nel laboratorio tipo a farlo il sabato in orari separati perchè... c'è il professor manco che pure quest'anno ha proposto uno solo e visto ho le disponibilità di aule di orari ha proposto il sabato della fatta di quel giorno ma... il punto è che io non posso andare a prenotare due live o tre perchè ovviamente non è che posso dire i primi cinquanta che si prenotano lo danno altri no cioè... sarebbe un po' brutto ok per cui non riesco a prenotare tutti i live ma... ok ci... ho capito il problema è quello se fosse un'aula prendo un'aula grande e... e ci state un'altra cosa visto che ha detto che siamo tanti più o meno le tempistiche per la protezione degli esami come sono? ma... indicativamente una settimana più o meno dall'esame perchè io ho il problema di come sapere i voti dentro il 5 giugno e... luglio e... infatti devo fare chissà anche gli altri due tre professori se è possibile accelerare allora in realtà se per l'iscrizione alla tesi e alla laurea l'importante è che i voti siano registrati con una data anteriore alla domanda che non ricordo l'iscrizione è la fine l'8 giugno l'8 luglio quindi... vogliono fare domanda se non ci sono tutti i voti registrati la tengono in sospeso poi c'è una scadenza ultima che comunque normalmente una settimana dopo la scadenza per voi per fare domanda in cui verificano che effettivamente i voti ci siano tutti quindi ovviamente il voto deve essere registrato con la data anteriore all'8 ok il voto deve essere sostenuto prima dell'8 però con la registrazione c'è un plus di una settimana sì ok perfetto quindi cioè non ho mai avuto problemi di quel tipo non lo sapevo ho letto che c'era scaenza l'8 luglio non sapevo che... sì voi avete dovuto dare tutti gli esami entro poi se il risultato non c'è entro l'8 io non mi ricordo io non mi ricordo la data di questo esame è il 28 giugno ho controllato stamattina quindi sono abbastanza sicuro 23 esami sì beh ragionevolmente una settimana dopo quindi 5 o 6 ci sono cioè quindi ci sono i risultati prima addirittura della scadenza grazie mille va bene prego grazie 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 come faccio con tu adesso applicare il CSS Devi andare nell'HTML, devi mettere qua nell'end, link, link, eccetera, eccetera, sì, e devi puntare, perché il browser legge l'HTML e quindi deve trovare l'HTML e riferimento all'accesso. Grazie.